Questo è il mese dedicato agli angeli di Dio. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. ORAZIONE A SAN MICHELE ARCANGELO Dio onnipotente ed eterno, per la grande clemenza che hai dimostrato agli uomini, hai eletto il gloriosissimo Arcangelo San Michele a Principe e Difensore della Tua Chiesa. Concedici che per Sua grazia possiamo ricevere sempre la necessaria protezione e vincere le insidie di tutti i nemici della nostra salvezza eterna. Fa che nell'ora della nostra morte, con l'aiuto di questo potente guerriero celeste, trionfiamo sugli spiriti immondi e compariamo puri e santi al cospetto della Tua Divina Maestà. Per i meriti di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. L'odato sempre sia il nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Pratichiamo la dolcezza e l'accoglienza con chiunque incroci il nostro cammino. 4 settembre Devozione nella preghiera Orazioni non esaudite Il Dio è infallibile nelle sue promesse. Se ci promise che ogni preghiera sarà esaudita, è impossibile che non lo sia. Eppure talvolta non lo è. Perché non si prega bene, dice San Giacomo. Si chiedono grazie di cose temporali che sarebbero la nostra rovina. Si domandano grazie per l'anima, ma fuori tempo. Si supplicano virtù di nostro capriccio, non secondo il volere di Dio. Non esaudendoci, ci toglie piattoso di mano un'arma fatale. Non sei convinto? Orazioni disattente Si pretendono grazie Dice Santa Teresa Se però le distrazioni sono involontarie, non temiamo. Noi non saremo soddisfatti, ma il Dio guarda alla disposizione del cuore. Orazioni devote Pregare e amare, dice Sant'Agostino. Chi ama poco, prega poco. Chi ama molto, prega molto. I santi più amanti non erano mai sazi di pregare. Gesù, il più santo, pernotava nelle orazioni. I Dio vuole il cuore, la volontà, il fervore, l'amore. E ciò, appunto, forma la devozione. Anche quando il cuore è freddo, anche nel recitare preghiere, che non intendi, ripeti i desideri santi, affetti di fiducia, d'amore, e saliranno gradite al trono di Dio. Chi non può fare così? Pratica. Recita ad agio e di cuore le tue preghiere. Chi non può fare così? spieghere. Chi non può fare così? Chi non può fare così?